Daniela Morgione, dirigente scolastica, siamo a Pescara in via Milano per parlare di cultura ambientale per la consegna di importanti bandiere verdi. Un bilancio della mattinata senz'altro positivo. Sì, è andato tutto benissimo. Abbiamo riunito le nostre scuole sotto il progetto Eco Schools, progetto che ci è stato presentato dal Comune a cui abbiamo aderito con grande entusiasmo e dopo una stagione, tutto l'anno scolastico passato, a inculcare nei nostri alunni l'amore per l'ambiente, l'amore per la sostenibilità, ci siamo ritrovati qui per la consegna del vessillo della bandiera verde perché questo progetto certifica proprio le scuole che attivano un percorso formativo all'interno proprio dell'educazione all'ambiente. Le nostre scuole hanno ricevuto tre bandiere verdi perché tutte le scuole hanno partecipato, quindi due scuole primarie Silone e San Giovanni Bosco e la scuola secondaria di primo grado Michetti Pascoli. La referente del progetto è la professoressa Andreina Sirena che ha curato e ha coordinato le attività nelle classi ed ha svolto veramente un compito molto importante per il raggiungimento di questo grande obiettivo. Andreina Liardi ha curato questo progetto molto interessante EcoSchools con tanti giovani interessati al discorso ma sull'educazione ambientale come rispondono i più giovani? Sì, allora i ragazzi sono molto interessati a queste problematiche legate all'ambiente anche perché la scuola è inserita all'interno della società, c'è qualcuno che dice che la scuola sta alla società come il cammino sta alla meta, che cosa vuol dire? Che noi non siamo scollati dal contesto, quindi in questo periodo in cui si sta tenendo anche la COP27 che vede riuniti i più grandi leader della terra per cercare di porre fine all'uso dei combustibili fossili e per cercare di abbassare l'impatto ambientale noi non possiamo essere avulsi e quindi abbiamo attivato una grandissima campagna di sensibilizzazione ambientale e i ragazzi sono stati molto coinvolti, molto partecipi anche perché abbiamo cercato di incidere sullo stile di vita dei ragazzi e delle famiglie perché l'educazione ambientale è fatta soprattutto di quattro R, ovvero il riuso, il riutilizzo, il riciclo e soprattutto la rinuncia. Quindi sensibilizzare oggi i ragazzi a riutilizzare, a riciclare i tessuti, a creare per esempio un astuccio da qualcosa che volevano buttare, creare addirittura una gonna, un capodabbigliamento con un capovecchio è molto importante. Così come eliminare le bottigliette di plastica da mezzo litro che emettono 80 grammi di anidride carbonica nell'atmosfera, sapere anche come purtroppo non sempre abbiamo il riscontro su larga scala delle nostre azioni e invece far sapere ai ragazzi quanto siano importanti nel quotidiano questi piccoli gesti e far capire anche come il micro incide nel macro.